Chi amministra un ente a vari livelli ha diverse mansioni e emissioni e si sente ovviamente rivolgere varie istanze e richieste. Sicuramente una tra le più gettonate in questo momento storico è il lavoro, le imprese, questo è un microcosmo in evoluzione che sta vivendo un momento decisamente difficile e particolare. A Nereto da mesi attivo lo sportello agevo lavoro, una sorta di punto di riferimento per creare delle opportunità. Chi a questo progetto ha lavorato sin al giorno del suo insedimento è il consigliere comunale che abbiamo ospite oggi a 45 giri, Maurizio Corini. Ben arrivato. Grazie per l'invito. Maurizio Corini dicevamo consigliere comunale con delega alle attività produttive, al lavoro, al commercio, fondi pubblici nella vita consulente d'azienda. Come amministratore abbiamo detto le deleghe che sono delle grane in questo momento. Sì, sono delle grane perché sappiamo tutti che la crisi economica generale e anche purtroppo abruzzese e terramana incide molto. Incide sulla popolazione, incide sul sistema economico in generale e offre molte incertezze sia sui tempi di ripresa e sia sulle modalità con le quali questa ripresa eventualmente dovrebbe esserci. Per cui è un tema scottante quello del commercio, della riqualificazione dei piccoli centri, soprattutto nei nostri piccoli comuni e soprattutto quello del lavoro, del lavoro giovanile, del lavoro di una fascia di età tra l'altro molto delicata che potrebbe essere quella dei quarantenni, cinquantenni, tutte categorie che purtroppo stanno soffrendo molto e alle quali dovremmo saper dare delle risposte non in termini proprio di creazioni di posti di lavoro perché per un ente pubblico ormai è impossibile, però nel creare le condizioni affinché ci possa essere più attività e più attivismo a livello di sistema locale. Piangersi addosso non serve a nulla, anzi probabilmente è la strategia meno indicata in questo aspetto. Sicuramente parlare di aiuti di Stato come è stato in altri momenti e altro concetto in questo momento fuori mercato. A Nereto è attivo lo sportello Agevo Lavoro? Come dicevo, insomma un'idea che cerca dal mio punto di vista di fare incontrare domande e offerte loro, ma soprattutto creare delle opportunità, questo forse è l'obiettivo principale, no? Sì, Agevo Lavoro è nato come uno sportello informativo. Le informazioni che eroghiamo sono quelle legate alle possibilità di avvio, di avviare nuove imprese anche con delle agevolazioni, agevolazioni di tipo finanziario o di tipo fiscale, magari se volete possiamo anche approfondire il tema. Oppure agevolazioni per giovani o fasce deboli che possono avviare nuove attività di imprese, di lavoro autonomo o di micro imprese, anche di piccolissime attività, con qualche agevolazione di tipo pubblico, ma anche informazioni di altra natura, informazioni su opportunità di lavoro, opportunità di formazione, perché come dicevi giustamente non è il momento di piangersi addosso. Bisogna trovare quelle che sono le opportunità, anche poche, offerte dal mercato, ma soprattutto cercare di valorizzare se stessi, cioè individuare anche da passioni, da hobby personali, individuare dei percorsi di inserimento lavorativo sul mercato che possano sfruttare le proprie conoscenze, le proprie competenze, le proprie esperienze di lavoro trasformandole anche in un lavoro. Certamente bisogna abituarsi a un modo di vivere diverso, a un tenore di vita un po' più basso e un po' più dimensionato rispetto al passato, soprattutto per i giovani che intendono entrare sul mercato del lavoro. Comunque lo sportello agevolavoro vuole essere un punto di contatto tra i cittadini, soprattutto i giovani, e il mercato del lavoro, inteso nel più ampio senso della parola. Abbiamo svolto molte attività, sia di tipo prettamente informativo, anche utilizzando in maniera, devo dire, abbastanza efficace ai social network, in particolare Facebook, ma anche organizzando delle iniziative sul territorio che hanno dato delle buone possibilità e buone opportunità sia alle imprese sia ai giovani. Ne cito due, poi se volete possiamo approfondire. Garanzia giovani e anche alcune leggi di agevolazione regionale o nazionale per le quali siamo stati un po' un'antenna sul territorio, avendo offerto un'assistenza sia informativa ma anche di prima assistenza tecnica. Dal punto di vista operativo, come si svolge l'attività dello sportello? Vogliamo dare due informazioni, poi entreremo nello specifico su alcuni elementi. Certo, allora Agevolavoro ha una sua visibilità sui social network. Esiste una pagina Facebook che si chiama appunto Agevolavoro. È attiva dal primo momento, cioè dal luglio 2014. Noi appena insediati abbiamo voluto realizzare qualche attività e qualche azione per dare un segnale forte alla cittadinanza e anche un po' al territorio, nel senso anche allargato del termine, non solo Nereto ma anche la Val Vibrata. Agevolavoro è stata una di queste azioni, di queste attività. Quindi pagina Facebook molto attiva, abbiamo oltre 300 utenti che ci seguono anche con una certa assiduità e abbiamo colto poi un'occasione legata a un bando regionale di tirocini formativi, cioè il bando fixo, e abbiamo potuto fruire di una giovane appena diplomata, la quale per quattro mesi ha fatto parte dello staff del comune e in particolare è stata destinata proprio allo sportello Agevolavoro da un punto di vista fisico, per cui abbiamo avuto lo sportello aperto per due mattine a settimana, il lunedì e il sabato, fino alla fine di dicembre quando appunto è terminata l'attività di tirocinio extracurriculare di questa giovane Nere Tese. A quel punto abbiamo fatto partire un bando comunale per selezionare dei volontari che potessero continuare in questa attività di sportello. Devo dire che è stato anche un ottimo risultato aver avuto quattro soggetti, quattro domande di cittadini, professionisti in particolare, che hanno domandato di poter dare il loro contributo come volontari allo sportello, per cui questo ci ha permesso di continuare a mantenere aperto lo sportello anche fisicamente, il lunedì mattina e il sabato mattina, e poter quindi realizzare varie attività. Voglio ricordarne una in particolare, abbiamo svolto vari infodei su delle tematiche davvero importanti sul territorio, ricordavo prima garanzia giovani. Garanzia giovani è un programma europeo recepito a livello nazionale appunto dall'Italia, ma anche da tutte le regioni, perché poi garanzia giovani va declinato a livello regionale. Ci sono stati vari bandi, io ricordo in particolare quello proprio per tirocini extracurriculari. La regione Abruzzo ha investito tanti soldi su questo bando e ci sono stati veramente tantissime domande. Ci sono anche delle criticità per essere onesti, i tempi un po' lunghi dal punto di vista burocratico, tempi lunghi anche per quanto riguarda il pagamento di questi giovani che sono già in attività. Però comunque è un'opportunità interessante per una fascia di età molto critica, cioè giovani fino a 30 anni meno un giorno, di giovani che non lavorano, non studiano e non svolgono attività di stage o comunque di attività lavorativa anche occasionale in altre realtà. Quindi una fascia complessa. La mia categoria definisce i net, questa tra virgolette limbo di nessuno. Esatto, è un limbo che finalmente è stato individuato, ben studiato, ben analizzato ed è stato affrontato con questo programma. Ripeto, con tutte le criticità che ci possono essere, però è una bella opportunità. Anche noi abbiamo fatto molte attività che hanno permesso a giovani di conoscere garanzia giovani, a molte imprese di conoscere garanzia giovani perché poi il sistema determina il match tra domande e offerte di questi tirocini formativi per cui il momento finale era proprio quello in cui l'azienda iscritta sulla piattaforma di garanzia giovani incontra il giovane iscritto e anche studiato, analizzato dai centri per l'impiego e quindi l'incontro tra queste due realtà. Sei mesi di attività. Dico l'ultima cosa, il comune di Nereto ha partecipato a un bando per poter essere soggetto ospitante di un giovane tirocinante perché poi non più di una unità avremmo potuto inserire a causa delle dimensioni proprio dell'ente. Abbiamo realizzato un bando pubblico per poter selezionare questi giovani che volessero partecipare all'attività di tirocino all'interno del comune di Nereto. Sono arrivate, il bando si è chiuso il 30 giugno, pochi giorni fa, sono arrivate sette domande, ottimi curriculum per cui ora entreremo nella fase di selezione per avere anche un'ulteriore unità a supporto di questa struttura. Per restare in tema dello sportello, altro elemento, altra attività si lega anche al beneficio di coloro che invece vogliono aprire un'attività, le opportunità, le agevolazioni, anche questo può diventare un elemento di orientamento. Si parlava ovviamente di giovani inoccupati, non soltanto ovviamente destinatari di un rapporto di lavoro ma anche che vogliono diventare loro stessi imprenditori. Esatto, infatti abbiamo anche in questo caso realizzato un infoday dove abbiamo parlato delle misure agevolative per giovani disoccupati, anche meno giovani, comunque residenti in Abruzzo e quindi anche nel nostro territorio per poter accedere a delle agevolazioni. Quando parliamo di agevolazioni il mondo è abbastanza ampio, è un sistema molto complesso e ampio per cui il nostro ruolo è quello di sviscerare le problematiche in maniera semplice, far passare i concetti e le informazioni in maniera diretta, selezionare le leggi e dare anche una scheda informativa da molto sintetica per poter orientare la persona verso la legge più interessante. Abbiamo trattato il mondo di Invitalia, che sappiamo tutti essere un'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, ma è anche un'agenzia che utilizza un budget nazionale del Ministero dell'Economia, che è il socio unico di Invitalia, per erogare fondi alle nuove imprese. Due sono le categorie più importanti, lavoro autonomo e microimpresa. In questo momento sono ancora misure attive, anche se si attende un rifinanziamento in quanto i fondi si stanno consumando. E poi c'è il mondo della regione, la regione Abruzzo, con la quale abbiamo sviluppato un'ottima collaborazione, grazie anche all'assessore Dino Pepe, che essendo stato sindaco di Torano Nuovo conosce le vere problematiche di amministrare un territorio piccolo, con tante difficoltà, soprattutto sul mercato del lavoro. Per cui con Dino Pepe abbiamo avuto la possibilità di aprire un dialogo naturale e immediato. Abbiamo avuto la possibilità di averlo a Nereto, in un convegno che proprio con Agevo Lavoro il Comune di Nereto ha organizzato su garanzia giovani, insieme a un altro assessore regionale, quindi erano in due, alla sclocco, quindi materiale sociale e del lavoro. È stato un convegno molto interessante, molto pratico, di taglio estremamente operativo. Tra l'altro la presenza di Italia Lavoro a quel convegno ha reso davvero l'evento molto significativo dal punto di vista pratico. E da quel giorno molti giovani e molte imprese si sono avvicinate in concreto sia al nostro sportello, ma anche e soprattutto ai centri per l'impiego, per potersi avviare sia al discorso garanzia giovani, sia agli altri strumenti di agevolazione per l'avvio di nuove attività. Ora stiamo aspettando i nuovi bandi, perché come tutti sanno siamo nel passaggio tra la vecchia e la nuova programmazione europea che ci porterà fino al 2020. C'è un ritardo purtroppo significativo dovuto a molte correzioni richieste da Bruxelles sulla programmazione che era stata presentata in prima fase. Siamo indietro come regione Abruzzo rispetto ad altre regioni, però si sta recuperando il tempo perso e il percorso sicuramente un po' difficile. Attendiamo quindi di conoscere quali saranno e quando ci saranno i prossimi bandi per poter continuare questa azione sul territorio di divulgazione di informazioni e di assistenza per le neo-imprese. Lei parlava di bandi, di economia che investe questo territorio che è in sofferenza soltanto alla Val Vibrata ma anche alla provincia di Teramo. La regione sta cercando sotto questo punto di vista di rilanciare anche il concetto legato al protocollo Vibrata Tronto, sottoscritto diverso tempo fa ma al momento che fa fatica a decollare. Di recente c'è stato un incontro alla provincia di Teramo. Ci seguiamo questo servizio, poi rientriamo in studio e lo commentiamo assieme. La Val Vibrata è una scommessa sulla quale la regione vuole investire. Mi sono battuto per far rientrare tra gli obiettivi di finanziamento anche il manifatturiero perché oggi che il Made in Italy torna con il vento in poppa non possiamo non difendere quello che è un vostro patrimonio. Parola del vicepresidente della regione Giovanni Lolli intervenuto la presentazione di Riter, un'idea, progetto per unire le forze del territorio Teramano con alcuni mirati obiettivi condivisi. Il documento presentato è stato elaborato da un gruppo ristretto di lavoro rappresentando dunque uno sforzo di sintesi come sottolineato dal presidente Renzo Di Sabatino perché da parte del governo c'è la concreta possibilità che vincoli la maggior parte delle risorse per le grandi aree metropolitane mentre per quanto riguarda sia la regione sia i fondi europei le misure prevedono espressamente premialità per le aggregazioni. Non possiamo lamentarci dell'asse Pescara-L'Aquila, detto ancora Di Sabatino, se perdiamo questo treno, quello di andare uniti verso pochi strategici e realizzabili obiettivi. Lolli ha messo sul piatto la programmazione FERS 2014-2020 e ha annunciato che sono pronti i bandi per due contratti di sviluppo specificatamente destinati alle imprese finanziamenti in conto capitale fino al 50% di ricerca per efficientamento energetico e acquisto di macchinari. La provincia quindi si è candidata al ruolo di ente intermedio per la realizzazione dei progetti aggregati quelli di competenza istituzionale, rafforzamento infrastrutturale, ecosostenibilità del territorio e valorizzazione delle aree interne e quelli destinati a reti di imprese, competitività del sistema produttivo. RITER contiene, per quanto riguarda le proposte istituzionali, le priorità emerse nel corso degli incontri con i sindaci per aree omogenee. Qui ci siamo accorti che si può lavorare assieme, tutti indicano le stesse priorità. Ha sottolineato ancora Renzo di Sabatino, manutenzione del territorio, interventi sulle cause del distesso idrogeologico, impianti di depurazione, cura e sistemazione dei fiumi e dei lungofiumi, piste ciclabili. La proposta ora sarà portata al Mise, sia per la richiesta di riconoscimento di area di crisi complessa, ma anche per la richiesta di finanziamenti specifici. Miriamo ad un accordo di programma quadro, dice ancora di Sabatino, che insieme alle risorse del nuovo FASSE ad una buona governante locale potrebbe garantire una vera ripresa. Quindi in questo servizio emergono tanti flash, tanti spunti dal concetto legato alla rete d'impresa, dalla necessità non più procrastinabile di mettersi assieme, di elaborare un progetto comune, e cercare di ottenere anche un riconoscimento di area di crisi per poter comunque riuscire a calamitare aiuti che in questo momento magari vanno altrove. Sì, dal servizio davvero vengono fuori degli stimoli molto molto importanti. Io almeno un paio li vorrei sottolineare, anche perché si collegano al lavoro che sto facendo e che stiamo facendo come amministrazione comunale sul territorio di Nereto in Val Vibrata. Il primo, il concetto di aggregazione. Oggi non è più assolutamente pensabile di poter competere su un mercato così complesso, sia a livello locale ma anche e soprattutto a livello internazionale, con dimensioni aziendali limitate, piccole, sacrificate da un punto di vista proprio di risorse finanziarie e di innovazione. Dobbiamo puntare sulle aggregazioni d'impresa. Devo dire che l'Abruzzo, la regione Abruzzo, già da qualche anno, ha riconosciuto questa priorità riconoscendo alle reti d'impresa un ruolo davvero importante. Come lo ha fatto? Lo ha fatto investendo del denaro, investendo una parte di fondi pubblici con dei bandi specifici dedicati alla nascita delle reti d'impresa e allo sviluppo, internazionalizzazione e innovazione proprio delle reti d'impresa. Il contratto di rete è uno strumento abbastanza nuovo che ancora deve avere uno sviluppo operativo davvero importante sul territorio, però la prima fase, cioè quella della nascita delle reti, è stata molto significativa, sia a livello nazionale come Sistema Italia, ma anche a livello regionale, perché l'Abruzzo davvero ha svolto un ruolo di protagonista in questo meccanismo, proprio perché la regione ha saputo cogliere il modo, i tempi e anche l'operatività con le quali erogare questi aiuti e quindi sostenere la nascita delle reti. Quindi reti d'impresa. Noi come abbiamo promosso questo meccanismo? Lo abbiamo fatto stringendo un partenariato di livello nazionale. Infatti Agevo Lavoro e il Comune di Nereto è stato il primo Comune d'Italia ad avere un partenariato con Assoreti PMI. Assoreti PMI è la più grande associazione privata nazionale di reti d'impresa. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa con la direzione nazionale, quindi col Presidente, con il Vicepresidente, il Presidente Emiliano, ed è venuto a Nereto perché abbiamo svolto il meeting regionale di Assoreti PMI grazie anche al supporto del Dottor Di Carlo che è il delegato regionale di Assoreti PMI per l'Abruzzo. Per cui noi nel nostro piccolo abbiamo colto una opportunità che nei prossimi anni sicuramente sarà positiva sui territori, cioè quello di dare un nuovo strumento alle imprese per aggregarsi. Dopo i distretti che oggi non hanno più motivo di esistere per tante problematiche si punterà sulle reti, si punterà sui poli di innovazione. E quindi questo è un primo punto a favore. Abbiamo avuto anche un certo interesse da parte di altri comuni della Val Vibrata e questo davvero mi fa piacere perché cade qualche pezzo di campanilismo in onore di un valore, di un fattore che sul territorio è assolutamente prioritario, cioè quello di sviluppare nuove imprese, un'imprenditorialità più competitiva e quindi automaticamente è più un lavoro. Questo è un primo aspetto. Facciamo così Corini, ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per la pubblicità e ci ritroviamo tra qualche istante per proseguire la nostra gacchierata. Di nuovo assieme con 45 Giri con Maurizio Corini, consigliere comunale a Nereto. Prima della pubblicità si parlava di reti di impresa e dei concetti che erano stati evidenziati dal servizio visto in precedenza. C'erano vari spunti, l'altro elemento che mi viene da sottolineare, come diceva anche Renzo Di Sabatino, la necessità di elaborare un progetto comune, qualificante, che poi possa avere una valenza al tavolo europeo nel caso di specie. Sì, questo del mondo dell'Unione Europea è un tema davvero molto interessante. È una frontiera nuova perché pochissime sono le esperienze a livello di enti locali di progetti presentati e finanziati a livello di Unione Europea. In questo periodo sono tanti anche gli appuntamenti sul territorio, convegni, seminari, tavoli di lavoro che dovranno servire a sviluppare delle capacità progettuali e soprattutto a incanalarle nei segmenti che sono quelli più interessanti, sia dal punto di vista finanziario, quindi budget europeo, sia dal punto di vista locale, quindi finalizzazione dei fondi. Devo dire che questa sarà una battaglia, forse, non lo so, la perderò con buona probabilità, però dobbiamo provare con tutte le forze di staccare dal livello locale, dal livello localistico, l'approccio al mondo finanziario. Mi spiego meglio. Esiste l'Europa, esistono programmi comunitari per tantissimi segmenti di attività, dalla formazione all'innovazione tecnologica, alla ricerca, allo sviluppo, piccole e medie imprese, formazione, cultura, energia, energia intelligente. Tutti questi settori hanno dei budget specifici ai quali anche l'Italia contribuisce insieme a tutti gli altri partner europei. La sfida sarà quella di portare qualche fondo europeo anche nei nostri piccoli territori, anche nei nostri piccoli comuni. Certo, per raggiungere questo obiettivo è impensabile di poter proporre Nereto o un altro piccolo comune da solo come progettista, come proponente di un progetto europeo. È necessario aggregare. Quindi il concetto di rete per le imprese lo dobbiamo mutuare senza alcun dubbio. Fateli si faceva riferimento al concetto di aree omogenee. Di aree omogenee, esattamente. Noi dobbiamo capire quali sono le caratteristiche attrattive dei territori, le caratteristiche sulle quali costruire un progetto, muovere insieme 3, 4, 5, 6 comuni, progettare e arrivare a Bruxelles con delle iniziative che possano essere finanziate. Certo, per fare questo c'è bisogno di professionalità, c'è bisogno di conoscenza del territorio, c'è bisogno di conoscenza del mondo dei programmi comunitari. Bisogna farsi aiutare. Ci sono tanti professionisti nei nostri territori che possono dare questo contributo, è necessario provarci. Noi abbiamo l'Unione dei Comuni Val Vibrata, ho parlato spesso con alcuni sindaci, con alcuni colleghi, assessori o consiglieri delegati alle attività che anch'io seguo e devo dire che c'è una sensibilità verso questo mondo perché capiscono tutti che è l'unica alternativa alla scarsità di risorse che abbiamo nei piccoli comuni. Però devo dire che il percorso è ancora molto lungo, ci dobbiamo sedere, ci dobbiamo incontrare, dobbiamo capire quali sono i programmi più interessanti, dobbiamo chiedere aiuto agli enti e alle strutture che sul territorio possono dare un aiuto in questo senso e sviluppare dei progetti che possano essere finanziati perché la competizione, capite bene, è veramente molto molto alta a livello europeo. Lei faceva riferimento a quello che è l'ambito della nostra zona, della Val Vibrata, che dal punto di vista economico sta vivendo una fase decisamente molto difficile, molto complicata per una serie di ragioni. Di recente, proprio qui a Sant'Omero, c'è stato un importante convegno con la presenza anche del Vice Presidente della Regione Abruzzo, Lolli. Ascoltiamo questa intervista, poi rientriamo in studio e la commentiamo assieme. È stato un convegno, debbo dire, interessante, veramente mi ha appassionato perché vedo che questa zona ha una vitalità fantastica, certo. Gente che si lecca le ferite della crisi che c'è stata, però è gente che ha ancora una voglia di fare, una creatività, una storia. Quindi davvero ne vale la pena che ci investiamo su questa zona. Già abbiamo deciso, l'aggiunta attuale, che fosse una delle zone scelte per la maggiore intensità di aiuti europei. Adesso l'altro passo, e lo verificheremo l'undici, una riunione al Ministero, è stato quello di riattivare il vecchio protocollo di intesa, Vibrata Tronto, che deve arrivare a fare, si chiama accordo di programma quadro, cioè un accordo tra Stato e le due regioni, naturalmente coinvolgendo comuni e province, per fare in modo che lo Stato mette dei soldi, le due regioni mettono dei soldi e concentriamo qui un'azione in cui, accanto ai finanziamenti ordinari che derivano dai fondi comunitari, noi possiamo puntare a fare di questa zona una zona nella quale possa risorgere un'attività industriale, per fortuna alcune imprese ci sono, sono vive e sono anche forti, ma insomma siamo molto lontani dalle potenzialità e dalla storia, possa risorgere una grande realtà imprenditoriale e di imprese. Naturalmente dobbiamo poi deciderlo insieme, non è una cosa che si fa dall'alto, queste cose funzionano, se dall'alto, cioè le istituzioni, lo Stato mettono risorse e strumenti e dal basso la società, le imprese, i giovani, i lavoratori mettono la loro capacità di fare. Ecco, se si crea questa congiunzione dal basso e dall'alto e se intendiamo questa operazione come un signore che ha parlato, ha ben detto, come una guerra che facciamo qui alla burocrazia e riduciamo i tempi di permessi, di accesso alle procedure, io credo che ci siano tutte le condizioni per vedere questa zona così bella e così forte risorgere e ridiventare la locomotiva dell'Abruzzo. Corini, l'assessore Lolli parlava di una zona vitale insomma in movimento, nonostante le difficoltà, ma bisogna forse anche dargli una vocazione, inventarsi una vocazione o far cosa? Lei nella sua vita professionale è consulente dell'azienda e quindi ha un osservatorio molto chiaro su quelle che magari possono essere l'attività in questo momento più gettonate o meno, ma forse bisogna dargli una vocazione? La mia riflessione, come dire, è pertinente oppure no? È molto pertinente anche perché la Val Vibrata è stata negli anni 70-80 e lo ricordiamo tutti veramente una zona fra le più industrializzate in Italia, era il distretto più importante del tesi di abbigliamento. Poi è morto, è morto perché sono arrivati altri competitor più competitivi da un punto di vista del costo del lavoro, dal punto di vista fiscale, dal punto di vista anche della localizzazione. però è anche vera un'altra cosa, che non c'è stata la capacità di pensare proprio a quella identità da focalizzare. Faccio un esempio, pochissime aziende della Val Vibrata hanno investito su innovazione, pochissime aziende in Val Vibrata hanno investito su un proprio marchio, pochi hanno creato una propria linea di abbigliamento, una propria linea, ad esempio, nel settore del tessile di cui prima si parlava. Questo è stato un grave danno perché avevamo da noi una mano d'opera altamente qualificata, avevamo imprenditorialità pronta all'investimento e alla crescita, avevamo anche in alcuni casi la politica matura e pronta per investire e per sostenere questo sviluppo, in realtà non c'è stata la lungimiranza e la capacità di comprendere dove andava il mercato e quindi ci si è affermati al fasonismo, ci si è affermati al contoterzismo, pochi hanno sviluppato il proprio marchio, il proprio abito, la propria collezione, sono quelle poche realtà che hanno sopravvissuto alla crisi e soprattutto quelle che si sono aperte poi a mercati internazionali avendo una propria dimensione. Riportiamo il concetto agli enti locali e siamo su una stessa logica, dobbiamo ripensare l'identità dei nostri territori. Io onestamente è la prima volta che maturo un'esperienza amministrativa e in questo primo anno ho capito che non c'è un grande futuro per il piccolo bello nell'ente pubblico, forse c'è ancora un piccolo bello a livello imprenditoriale perché puntando sull'innovazione anche il piccolo artigiano può avere un suo spazio, ma negli enti locali non vedo questa possibilità, vedo più invece la tendenza da parte dello Stato a spingerci verso l'unione, a spingere i piccoli comuni all'aggregarsi, al fondersi, a costituire un'unica realtà municipale con più unità locali e quindi a ripensare l'identità delle località, quelle che prima erano piccoli comuni, diventeranno, credo, delle località all'interno di un municipio più ampio, quindi con funzioni centralizzate che portano un'efficienza, dovrebbero portare a una maggiore efficienza, soprattutto a minori costi. Il taglio dei trasferimenti centrali è evidente, ogni anno è sempre più forte e viviamo solo con ormai la tassazione nei confronti dei cittadini che non possono più assolutamente tollerare eventuali aumenti del tutto impensabile, per cui si andrà sicuramente verso l'aggregazione. In questo giocherà un ruolo importante forse l'unione dei comuni, dovrebbe giocarlo, oppure potrebbero nascere delle aggregazioni di meno comuni a livello di territorio più omogeneo e più qualificato per le caratteristiche che si ritrova ad avere. Prospettive davvero interessanti, belle, che però da noi non sarà semplice far digerire per tanti problemi campanilismo, identità, personalismo, problematiche politiche. Qualcuno in passato diceva che ci voleva probabilmente una rivoluzione culturale, usando probabilmente un termine forte ma che può essere calzante. Sì, rivoluzione culturale e noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo perché proporre iniziative così importanti come quelle che ha proposto a Giego Lavoro e quindi il Comune di Nereto ci vuole un po' di coraggio, ci vuole coraggio a fare un meeting regionale proprio a Nereto togliendo l'iniziativa a Pescara e a Chieti e ci ha creduto a Soreti PMI, ci abbiamo creduto noi ed è stata una bellissima iniziativa con imprenditori di almeno 5-6 regioni italiane che sono venute a Nereto a svolgere questa iniziativa. Cosa è rimasto? È rimasto qualcosa perché ci sono già aziende che stanno chiedendo informazioni su cos'è un contratto di rete, su come può essere utile per migliorare la competitività delle aziende. Prima parlavamo di identità locali e tornando a quella domanda alla quale tengo molto è assolutamente necessario ripensare l'identità dei nostri piccoli comuni. Nereto in questi ultimi anni ha avuto questo problema di una spersonalizzazione, di una frammentazione. Dobbiamo, credo, ritrovare le direttrici che sono alla base della nostra comunità cittadina e che sono anche i trampolini di lancio per i futuri anni e per i futuri decenni. Io cito su tutti la scuola alla quale la nostra amministrazione ha dedicato tempo, attenzione, anche qualche piccolissima risorsa per quanto ha potuto, ma soprattutto la massima disponibilità. Siamo stati la prima amministrazione a firmare un protocollo d'intesa con l'Istituto Peano Rosa che sul territorio rappresenta una realtà di quasi 1500 soggetti tra studenti e insegnanti e addetti del mondo della scuola. Posso citare un altro aspetto, quello legato ai servizi. La centralità di Nereto in Val Vibrata porta naturalmente la nostra comunità a sviluppare questo settore dei servizi, ma dobbiamo pensare anche a qualcosa di più moderno, di più qualificato, che vada verso l'innovazione, che vada verso il cambiamento e ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando. Cito per ultimo un tentativo che già sta dando i primi frutti di intercettare a Nereto anche un minimo flusso turistico attraverso la valorizzazione dell'enogastronomia locale. L'enogastronomia rappresenta uno dei fattori di attrazione attualmente del turismo mondiale per cui è un fattore di sicura importanza per lo sviluppo dei territori. Noi nel nostro piccolo abbiamo due piatti tipici la cavra alla Neretese e il tacchino alla Neretese che stiamo cercando di valorizzare. Abbiamo lanciato un progetto che si chiama Gemelli del Gusto con il quale creiamo dei gemellaggi con altri comuni che hanno nei nostri stessi prodotti tipici e nei nostri stessi piatti tipici una valenza a livello della loro comunità locale per cui si crea questo gemellaggio si creano delle iniziative di degustazione dei piatti scambiandosi delle visite tutto questo con la speranza di poter veicolare verso la Val Vibrata verso Nereto nel nostro caso un flusso di turismo che possa far nascere possa far scoccare anche questa scintilla che nei prossimi anni potrebbe essere davvero interessante un'altra delle deleghe che le gestisce è quella legata al commercio anche questo è un settore ovviamente in sofferenza non potrebbe essere altrimenti lei parlava insomma dell'importanza della scuola quindi comunque il fatto che ha Nereto storicamente da sempre gravi studenti comunque è un punto di riferimento di recente c'è stata anche una polemica da parte dei commercianti del cosiddetto centro storico relativamente a una bretella che insomma è in fase di realizzazione adesso qual è il suo punto di vista o meglio la viabilità in questo contesto andrà a penalizzare quello che è il commercio al centro storico di Nereto oppure no si è fatta un'idea su questa cosa? sì sulla bretella dico solo una cosa personale nel senso che non ritengo che possa avere una qualche valenza in questo momento né per Nereto né per la Val Vibrata si tratta di una spesa di un milione e 600 mila euro per poche decine di metri di strada in questo momento parlare di tutto questo con la difficoltà che hanno i cittadini davvero di spendere di curare gli interessi delle proprie famiglie con la disoccupazione che abbiamo soprattutto giovanile femminile di fasce deboli devo dire che è un'operazione abbastanza poco efficace e poco significativa per il nostro territorio non mi addentro perché di trasmissioni e di interviste su questa tematica persone anche più qualificate di me sono state fatte tante io mi fermo invece sull'altro aspetto quello legato al commercio se è vero che per me la bretella non ha senso però è anche vero che puntare tutto l'aspetto di attrattività commerciale di una località solo sulla viabilità ritengo che non sia giusto e che non sia corretto in una visione moderna dell'economia non è possibile pensare che un pullman una fermata di autobus un certo numero di auto rispetto ad un altro numero possano determinare il successo o meno di un centro storico intanto l'origine ci manda ripagire proprio del cantiere aperto insomma nella zona artigianale di Nereto va fatto a livello di commercio un ripensamento generale come dicevamo prima dell'identità del centro storico dell'identità della comunità che cosa ho fatto in questo anno prima di tutto abbiamo riaperto le porte e predisposto le sedie per farci incontrare tutti i giorni in qualsiasi momento i cittadini e i commercianti in questo caso un dialogo aperto fin dal primo giorno tutti i commercianti hanno con me un dialogo quotidiano nel bene e nel male nel momento di critica ma anche nel momento finalmente di costruzione dopo un anno in cui l'approccio è stato abbastanza critico e anche abbastanza come dire spigoloso in alcuni momenti ma lo conoscevo me l'aspettavo ed è normale che sia stato così oggi devo dire che c'è un rapporto davvero molto più costruttivo i commercianti che anche vivono una loro difficoltà interna sia a livello aggregativo a livello associativo per cui non è facile in una comunità come la nostra aggregare essere uniti a raggiungere un obiettivo unitario in poco tempo ci vorrà qualche altro mese e ci stiamo lavorando molto però sul dialogo su questo devo dire che c'è un'ottima prospettiva a cosa porta il dialogo porta l'amministrazione comunale a capire le esigenze vere quelle sentite dai commercianti dalla gran parte dei commercianti e non dall'uno da poche realtà che magari possono soffrire di più per una scelta di viabilità oppure per una scelta ecco di opera pubblica ma noi dobbiamo ascoltare la gran parte la maggioranza dei commercianti e soprattutto quelli che a Nereto hanno vissuto tutta la vita dietro a un bancone oppure a erogare i propri servizi e i propri prodotti li stiamo ascoltando stiamo sviluppando delle idee stiamo facendo anche delle prove dei test utilizzando ad esempio i mercati e le fiere abbiamo rilanciato credo l'anno scorso in maniera importante la fiera di San Martino che è l'evento più importante per noi perché è il Santo Patrono perché è una fiera che risale all'inizio del 1800 quindi molto antica e di grande importanza da quando è nata e fino ad oggi si era un pochino affievolito con l'approccio a questa festività già l'anno scorso grazie alla collaborazione di tutte le associazioni locali anche della parrocchia siamo riusciti a dare qualche piccolo scossone a introdurre qualche nuova iniziativa quest'anno proprio ieri sera il 2 di luglio abbiamo riunito tutte le associazioni per iniziare già a pensare all'edizione di San Martino 2015 credo che con un anticipo così non era mai stato fatto questo ci dà la possibilità di ascoltare sempre di più le esigenze di tutte le associazioni dei commercianti stanno venendo fuori anche delle bellissime idee già da questo momento e il mio impegno sarà quotidiano proprio per cercare di migliorare di migliorare è chiaro che non abbiamo grandi risorse finanziarie abbiamo tutti difficoltà con i bilanci pubblici abbiamo difficoltà a chiudere i bilanci abbiamo difficoltà ad assicurare i servizi che fino ad oggi ci sono sempre stati e soprattutto con l'impegno di non aumentare ulteriormente la tassazione ai cittadini tutto questo a volte sembra incompatibile è complicato è complesso però ci proveremo ci proveremo abbiamo poco più di un minuto alla fine lei parlava di associazioni del rapporto della collaborazione in questi giorni ha preso via anche il calendario dell'estate dell'estate neretese sì un calendario ricco di eventi tra quelli diciamo storici che ormai si ripetono da vari anni come non so il concerto sinfonico dell'orchestra Rossini di Pesaro diretto dal maestro neretese Luisella Chiarini la rassegna dell'operetta nazionale sono tre serate dieci serate dedicate al teatro dialettale altre serate dedicate alle nostre associazioni locali e ad altri gruppi musicali e teatrali altre serate importanti di cultura legate al libro alla poesia alla letteratura un cartellone molto importante soprattutto condiviso fatto insieme ai cittadini attraverso le associazioni no profit che operano sul territorio che sono davvero davvero tante e operano bene grazie grazie a Maurizio Corini per la sua presenza 45 giri finisce qui noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un po' proseguimento di giornata grazie a tutti